Carlo Tanzi, candidato alle prossime elezioni regionali con Luigi De Magistris, presidente, denuncia una situazione gravissima che è imperversa ancora oggi a Caolonia, dopo la frana che interessò il comune Regino nel 2015 durante un'alluvione, quando Carlo Tanzi era il numero uno della protezione civile calabrese. Il mio appello alla sindaca di Caolonia, dice Carlo Tanzi, è di sottrarre queste famiglie dalle trappole di morte in cui vivono, perché nulla è stato fatto per mettere in sicurezza la zona che è ad altissimo rischio. Qui siamo in una frana che si è mossa nel 2015, si è mossa in modo consistente e che poi ha continuato a muoversi anche negli ultimi anni, qua quando dirigevo la protezione civile avevamo installato un sistema di monitoraggio, ancora vediamo i sensori che in tempo reale ci dà cognizione del movimento, quindi può in emergenza provvedere allo sgombero di tutte le famiglie che abitano in questo contesto. Ecco qui vediamo una grande frattura, una frattura profonda, circa 50 metri, questa arriva fino a 50 metri di profondità, perché a 50 metri ci stanno delle argille e quindi qua abbiamo un pacco di materiale un po' più relativamente roccioso, più consistente che galleggia su queste argille e quindi il materiale si spetta come lungo questa frattura, si sta propagando verso quelle case e quindi nel corso degli anni se non si prendono provvedimenti questa frattura inesorabilmente arriverà a quelle case. Già abbiamo qualche segno, qualche lesione che è una bisaglia verso un'evoluzione di questo fenomeno. Ormai questa zona non è più percorribile, anche perché vedete tutto questo piazzale si è abbassato di circa un metro, il fenomeno continua, l'acqua continua a scavare e voglio denunciare anche il fatto che nel 1995 in questo territorio sono stati investiti circa 12 milioni di Euro per mettere in sicurezza questo territorio e se i soldi fossero stati spesi bene avrebbero consentito di risolvere il problema, definitivamente, invece sono stati spesi male. Le frane sono come dei tumori, se si prendono subito si risolvono i problemi e fin quando sono piccoli si possono arginare, però se poi la frana non viene presa in tempo, se non si fanno interventi immediatamente per la messa in sicurezza, inesorabilmente la frana continuerà e si propagerà verso le case del bellissimo centro storico di Caoloni.